Quello che stiamo osservando adesso è una ondata di tamponi positivi. Cioè è qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo osservato lo scorso anno dello stesso periodo in cui c'era una vera e propria ondata pandemica. Cioè oggi il virus si sta diffondendo in una popolazione principalmente vaccinata e quindi quando un virus si diffonde in una popolazione che è protetta, comunque protetta dalla vaccinazione e dal fatto che fra le persone dove sta circolando il virus ci sono anche persone che hanno avuto già l'infezione, quindi è una popolazione parzialmente immunizzata. Non parliamo più di ondata pandemica, questo è un virus che sta circolando in una popolazione in modalità endemiche, che è una modalità completamente diversa. Cioè circola e se andiamo a cercarlo lo troviamo, abbiamo i tamponi positivi. Molte di queste persone con tampone positivi non hanno sintomi o hanno dei sintomi molto 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 lievi, quindi che non danno nessun problema dal punto di vista sanitario. Qual è il problema? Che la forte circolazione di questo virus, quindi con tante persone positive in giro, può incontrare sulla sua strada persone che non sono protette. Sono le persone che hanno deciso di non vaccinarsi e queste persone che hanno deciso di non vaccinarsi possono fare la differenza, perché poi sono quelle che possono sviluppare malattia grave, andare a fine in ospedale e ancora una volta intasare il nostro sistema ospedaliero. Ecco, questo è il problema da risolvere ora. Terza dose a 6, poi a 5, poi a 4 mesi in Francia 3. Un po' di incertezza in chi ascolta viene, professore. È mancata la sperimentazione, sono aumentate le varianti, bisogna procedere, lo dicevamo in premessa, anche nella incertezza per poi arrivare alle certezze. Allora, guardi, questa incertezza non deriva dal fatto che non c'è sperimentazione e che le decisioni di sanità pubblica bisogna prenderle man mano che la situazione cambia. Anticipare la terza dose, la dose di richiamo, è un dato che ci serve non tanto perché il vaccino non funziona dopo tre mesi, ma perché ora sta circolando Omicron. Se Omicron fosse arrivato in Italia fra due mesi non ci sarebbe stato nessun motivo di anticipare la terza dose. Dobbiamo andare di fretta perché Omicron sta circolando adesso ed è adesso che dobbiamo cercare di contenere la circolazione di questo virus. Ma normalmente se un richiamo si fa dopo cinque mesi funziona benissimo, se si fa dopo sei mesi funziona benissimo. E' chiaro che di fronte a una circolazione virale molto importante è importante anche anticipare la terza dose.